Un invito aperto a tutta la cittadinanza per partecipare ad una protesta pacifica, quella di vendere abusivamente vicino al tanto polemizzato mercatino etnico di Pescara, fino all'arrivo delle forze dell'ordine per lo sgombero. Marco Forconi autodenuncia la sua protesta alla questura di Pescara e dopo poche ore nella sua libreria arriva una diffida da parte del questore che gli vieta di portare a termine questa protesta in qualità di esponente politico. Forza nuova nello specifico e da qui inizia la storia. Io nel fax coinviato alla questura ho specificato che compio l'azione come singolo cittadino, anche perché tra le altre cose io sto esponendo dei libri, non sto esponendo merce contraffatta, quindi i libri anche un po' difficili da contraffare. Non capisco il motivo per cui la questura debba pormi questo divieto, probabilmente perché sanno che potrebbe esserci tanta gente e quindi temono che ci sia un effetto domino abbastanza pericoloso, anche perché, onestamente diciamocela tutta, tutti quanti pagano le tasse, i cittadini italiani e anche stranieri. Soprattutto dovremmo tutelare anche quei cittadini stranieri che tutti i giorni si alzano, alzano la serranda e comunque pagano l'affitto, pagano le tasse e concorrono al benessere dello Stato italiano. Dovremmo anche tutelare quella parte comunque dei immigrati che lavorano onestamente. Nessun passo indietro da parte di Forconi che annuncia di proseguire il suo intento a partire dalle 9 di domani mattina, ora in cui posizionerà il suo banchetto abusivo proprio davanti all'ingresso della stazione di Pescara. Ovviamente si va avanti, io non ho mai fatto un passo indietro quando anche come responsabile politico mi sono state vietate delle manifestazioni perché le ho sempre ritenute comunque giuste. Come singolo cittadino io non capisco perché prima ancora di esporre della merci mi si vieta di esporla, mentre per 21 anni è stato tollerato comunque un agglomerato commerciale assolutamente illegale. In questo senso faccio anche un appello ai venditori ambulanti ma anche a coloro che hanno un negozio in pianta stabile, dovrebbero lamentarsi non tanto per la merce contraffata perché quello poi dipende dal soggetto ma soprattutto perché, ripeto, chi paga l'affitto e sa che significa pagare l'affitto con la crisi che c'è oggi dovrebbe comunque indignarsi.